Ho appena finito di leggere la bella biografia scritta da Massimo Fini su Friedrich Nietzsche, uno dei filosofi più influenti della modernità. Come sappiamo, egli è idolatrato da alcuni mentre viene guardato con sospetto da altri. Malgrado provenisse da una famiglia cristiana, fu fiero oppositore del cristianesimo. Ricordo un professore di filosofia, ex sacerdote, che frequentavo nella mia adolescenza, che mi diceva che Nietzsche era un mistico al contrario. In che senso? Nel senso che aveva in sé le altezze di pensiero del mistico, ma le aveva percorse al contrario. La vita di Nietzsche fu molto infelice, specie in amore. Uno dei suoi grandi amori non corrisposti, Lou Salomé, aveva ben detto di lui. Viveva il pensiero più di quanto non lo pensasse. Chissà quanto del suo pensiero e della sua ribellione intellettuale, anche contro il cristianesimo, non fu frutto della sua profonda frustrazione esistenziale. Molti lo vedono come un maestro, ma forse bisognerebbe prendere sul serio quanto Nietzsche stesso aveva detto. Si ribaga male un maestro se si rimane sempre allievi. La sua fu una vita infelice, come ho detto, di grande solitudine, una vita che terminerà gli ultimi anni con una disabilità mentale fortemente invalidante. Proprio quando cominciava ad avere successo con i suoi scritti, lui non se ne rendeva più conto. Il giornalista Massimo Fini termina la sua biografia dicendo «L'uomo che aveva desiderato spasmoticamente essere preso sul serio come filosofo ed era invece sempre stato considerato un dilettante e trattato con la più frustrante delle censure, il silenzio, che avrebbe tanto voluto avere folle di discepoli e ne aveva avuto uno solo, per di più un po' tonto, che era stato costretto a pubblicare a sue spese, aveva ora esegeti che disputavano su ogni sua parola. Era guardato come un profeta da schiere di adoratori, aveva milioni di lettori ed era da tempo famoso in tutto il mondo, ma non aveva mai potuto saperlo». Della sua vita mi rimane impresso il ruolo importante che ebbero due donne, che ebbero un'influenza veramente importante su di lui. La sorella Elisabeth, che fu abilissima, anche con manipolazioni, a creare la fortuna del fratello e il suo mito, anche se lui non se ne rendeva più conto, come abbiamo visto, ma soprattutto la madre, Franziska, che probabilmente non capiva questo figlio molto strano, lei che era figlia di un pastore protestante e moglie di un altro. Eppure la mite ma forte Franziska seppe seguire questo figlio strano nelle sue peripezie fino all'ultimo. E appunto non ultima lo seguì nel poderoso tracollo mentale che accompagnerà Nice fino alla morte. In Franziska possiamo veramente vedere tutte le madri che amano i figli come sono e si sacrificano per loro. E questo i cattolici lo possono pensare anche della Beata Vergine Maria, che mai smette di guardarci con indulgenza, perdonando le nostre mancanze e intercedendo per le nostre colpe. Chi non ha più la madre su questa terra può pensare che essa sia con la Madonna e che insieme a lei intercede per noi presso il Padre.